Alcuni eventi sollevano questioni circa l'apparato di sicurezza attorno a Donald Trump. Un'automobile si stava dirigendo verso un checkpoint nella notte tra sabato e domenica e il guidatore ha sostenuto di avere una bomba a bordo. Il conducente è sotto custodia e l'automobile è stata controllata. Non c'è stata conferma ufficiale della presenza di un urdigno. Le misure di sicurezza alla Casa Bianca sono state potenziate. Poche ore prima dell'allarme, un'altra persona aveva provato a saltare la recinzione. Qualche giorno fa un uomo che affermava di avere un appuntamento nella notte con Trump era addirittura riuscito a penetrare nelle aree riservate del parco presidenziale e a girarsi per ben 16 minuti. Una falla che aveva addestato profondo scalpore.